Gli ha dato un ero est Perché dice a sinistra? Perché vuoi vedere il mio nome? Vai, andiamo No, aspettate, aspettate, aspettate Sì, non ha fatto destra, c'è una vita dei personaggi, quindi no C'è un grande problema Il problema c'è Ok, vai, andiamo Allora, le mappe erano le mappe piccole Le mappe piccole in 5 Direi Gang bang Gang bang Che non ha potato? Che non ha potato? Io ho premuto Hicks Ho premuto Hicks No, no, era Luca No No, ero io mai ho premuto il tasso Torre l'eroe Vanno Ok Ragazzi, ragazzi, controllo e fermi Non mi attaccate, non mi attaccate Eh vabbè, vaffanculo Allora Marco, io voglio colpire Però con il cappello Con il cappello e si è scansato Ma non poter me... Fermi, non mi attaccate Sto in mezzo a tutto Aspettate, aspettate No Ah, non vale Ma se sto dietro al verde Cosa attacchi il verde Ma scusa Questo è stupido, ragazzi Il verde non sta in te Ho capito Ma se io sto dietro a lui Perché lo attacchi Questo ragazzo è scemo Ma perché sei sempre nella mia... Eh vabbè Allora Dai, io già non so giocare Che cazzo Cosa è un basso? Chi? Archi anche... Chi è quello con le pistole? Non ci stiamo colpendo mai Se abbiamo due cechi che giocano Cos'è contro i cechi? E' una cosa divertente E' il dovina Che Adesso Non mi trova il... Perché deve essere cipi Non serve Parla per te Non mi lavoro E' un cazzo E' potuto aspettare 27 minuti No Per uccidermi Aspettare che 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 mi funzionasse il controller Per vedere se funzionava Funziona Gravissimi Ah, cacola Archi Non l'ho proprio toccati Contro i giri I volumi Scusami Io ho una domanda Però Scusami Tu L'eroe come l'hai selezionato? Non lo so Mi l'ha fatto selezionare E poi Poi smesso di funzionare Scusami Io l'ho solitato Con il controller E poi Poi smesso di funzionarmi Non lo so Non lo so Archi Ma hai i volumi Degli altri miei O il mio? Come si può fare Vedere i volumi Degli altri Allora Devi prendere C'è un modo Per metterli fissi Aspetta Allora No, no, no Fuori dalla partita Fuori dalla partita Dal menù Fuori dalla partita Lancia una granita Ti prendevi una volta Devo anche alzarlo Le mani Non è giusto Ciao 10 Ciao 10 Bello Come A formare A me No, no Perché forse Effettivamente Il gioco ci sovrasta Ah no È Aero Ma io coltivo Ma che Aero Io sono Aero e lanciere Forse Non lo so Non ho la signorina Donna Ah la pistola Entra Anche L'arco Hai ragione Mi sopra Assoluti Mi devo abbassare Quindi che devo fare Prima di dire Che sono basso Perché sono alto Ma non so Forse tu sei un po' alto Ma forse Con i livelli No Perché dei livelli Di stream Sono più basso Degli arco Ma te Ascoltimi Chiro Cioè Mi sono al microfono Rispetto al solito Dai ci pensa Che la prima volta Che ci gioca E tu non mi stai Andando a giocare Perché Mi funziona Il controller Ma Vero molto gentilmente Ma No Perché Marco Dei menti Non è la prima volta Ci gioca Ha dato Ho fatto tre partite Che bellissime Queste mani Sono fantastiche Sono fantastiche Mi devi fare una sega Da queste mani Come scusano Iro con le mani Di Raimon Dire bene le cose Bastardo Guardalo Non voglio far avvicinarmi E vabbè Ecco che Comincio a spavare Guardalo Guardalo Eh ce la faccia Felicissima Raimon Sì sì Potentissimo Buttate fuori Mase No Ma è mase Uno albaron Uno albaron Uno albano Felicità Picchiare cercello Con un martello Ma se ti ho tolto le mani Che cos'era L'audio Ma che erano quelle stelline Era Quella verso di sopra Ragazzi Ho cantato una canzone Mi sono sbagliato Ho realizzato Ho fatto caso adesso Si metto i nomi Ora fa Allora Opzioni Sistema E c'è Player names Player names Scegli quali voi C'è HD Only you Never Hd più other players Sì Quello quello Hd da solo Non ho ancora capito cosa faccio Ecco di più other players Riproviamo No Quella è A più di più All you Ma se best Samurai Anca Mamma mia All this world Samurai E vi ha presentato Zeb in natale A new york E manca di nuovo Cercello Ecco perché Prima non mi faceva Premere Quindi perché Non mi funziona Per controller Con E' visto Ok Ora si vedono O no C'è Mas C'è To C'è Air Ma Ma Avevo Vabbè Non ci sta cambiando una minchia Non vale Poi Tengo i pugni Nelle mani Cambia mia Minchia Hai detto Marco E vabbè Non so Il bene Vado Vai via Non vale Sono la palla Del Santo Graal La palla Ha sfida Anche Quanto Tutti Marco Le hai messi tutti i nomi Tu Sì No solamente il mio Bene bene Scherzo E non vale Non so Lo sto facendo Prima Doste a caso Non funziona Ha funzionato Sono ancora qui Certo Prima Doste a caso Che non funziona Si la metta Anche Capito Vieni qua Mas Che mappa di merda No Ah ma sono ancora vivo Wow Lui si è dato che è morto Prima Non ne ho ucciso Quanto Spergato Senta La vita C'era Sì 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 Sto è tornato Dove sto Oh Che Sono ucciso Marco Sei arrivato fortissimo Per il potere del martello del santo paparino dead No non posso dirlo Dove sono Vai via Ragazzi Ragazzi immaginate Vabbè Si chiama francese Comunque si Ma l'abbiamo già eliminato una volta Si no ma non posso dire cos'è realmente il santo paparino La palla di mia mamma Dove sono? Oh che è successo? Volo Pum Prendi questo albume Le palle del pollo Eeeh Mi fa pensare Tutto bene E' vero Non ho capito Ha detto che tu che non utilizza Fur Giusto che non utilizza Ragazzi oggi a buona Vinto al quiz Bravo 60 centesimi Beh ho resistito più di quanto credessi Ma buttare di alto che c'ha 3-2 vite E' un'altra diceva Diceva arti E' un che vederti se ne sono fuori Non pensi rischia Che è stato tutto bene Ha pure vinto con due vite Ciao c'è Orion Vabbè usa Usareci parole C'è il mio Io con Rayman Ma ho fatti livello 2 E io Ma se Il primo giorno Che gioco Questo gioco Vabbè vai Prendogli a suo Dai provo con Val Andiamo avanti E no Dove gli asuono Divento scemo Va prendo Amici vi ricordo Che in alto No 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 cambia Cambia prendo Vico Prendo V e Ragazzi ma io sono Malante C'ho quattro dita Potete vedere Un donation goal verissimo Esatto Appena raggiungeremo I 20 euro Siamo già a 25% Cacceremo Luca Daglianicorgi In realtà Vi faccio uno spoiler Non è 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 Hai ragione Donate Era uno scherzo Lo 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 Dove sono Che sono Perché sono Guarda 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 Da Presorio Non mi ricordo Qualcuno Dovrà pur Farlo Il bastardo Se non lo Poi Usa I pugni Di A I Am Io Non sono Più Abituato Con le Spade Aiuto La Spada Nel Pollo La Spada Del A Te E Che Cazzo Ti ha Cacato Un Michile Che ha Detto Un Missile Anche Un Capito Un Michile Va Non sa Parlare Poi si lamenta Con noi Che non Capiamo Vai Via No Si che mi lamento No si Che cosa vuole dire questo Perché non sa l'italiano Uso i pugni Nelle mano Dominating Che Cosa vuole No 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 Spada No 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 Niente Marco Dominating Colmi Dead Vieni qua Mas E Che Cazzo Oggi Guardavo il video Della collezione Di carte Di pokemon Del Mochia No Ero Già Con Masella E lo Chiamano Mas Stavizzato Tantissimo Ah beh Guarda Quello Che usa Le c Parole Con Gli Archi Cazzo Non è un Cancer Dove sono No Ragazzi Cero è caduto Mas Siamo gli unici Qui da una vita Non ci attacchiamo Tra di noi Attacchiamo Dead Ma se Non dobbiamo Di attaccare Il cazzo Allora Che ti devo Come si sale E là Vaffanculo Dead Come si sale Oh Me ne è morto C'è Cello Vieni qua E va bene Hai rotto Il Melone Ho sbagliato Marco Scusa Ma se Sono io Sono morto No ma se non abbandonarmi Porfavor Sì Non faccio Dopo la lampa C'è un bordello Cosa Si capisce Il cazzo Mi stiamo girando Solo da un quarto Dora ragazza No l'ho mancato Sventile Ah ah Buonetà Ah ah No Dato il di odio Who's your daddy Comunque Luca è nonostante Come? Eh guarda Luca come si chiama Comunque siamo papà contro aria aria contro nonostante Chi vincerà? Ma data sto facendo lo spammo Aria Chi sta sfamando? Quello è Si refletti Quindi uno spoiler Stiamo dicendo che aria star Keralta un maschio E' diventato papà Papà aria Stop it's a ready dead Guarda l'airu come si ristreggia con la lancia Sembrava quasi un'estensione del suo braccio pene ragazze li voglio il vicante indicante lo so vuole viching io prendo lord pranzi prendiamo mira ma che schifo guarda a un occhio solo blen dai bruttissimi relax è un cancro ma veramente la c parola delle stazze bassissime oddio insomma di attacco e difesa si con i giorni no a tutti gli attacchi sono prese praticamente sono io di qua il no no ho cambiato idea ho preso mirage mi ha detto che le lance sono forti e quindi vai di lancia no ho lanciato la lancia ah ma quello è dove luca non è iron non potremmo rosa che qua un parola non riesco a prendere l'arma la falce struzzo non mi piace questo gioco ma che cazzo sta succedendo marco ma che pallottola capito ma che ribazzo era quello mare ma se vieni qui no ma se non venire ma è il tuo cazzo eh ma dove sono? ah sono qui luca spamma luca non è vero aspetta che ora lo prendiamo luca dai andiamo tutti contro luca ragazzi guarda come fugge guarda come fugge non mi piace questo gioco ma come non è morto ma che cazzo ma è ma cane oddio dato che paura ma se non mi piaci ma se va fu ancora non combatto più contro di te luca hai rotto tre quarti di pisello di due no 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 per quanto mi schiaccia se voglio non ho appena visto cos'è daddy si daddy per favore sono amici da tanto ah ok andiamo contro luca vieni arrivo no non c'è più bisogno mi ha ucciso facile contro che non ha mai giocato andiamo sul rocket league coglione ma io non siamo tutela stata io oggi non trovai e sì ma nessuno sentito veniva fatta io aiuto e vabbè bene se n'è andato hanno ancora vivo uccidete luca per favore ah ma share è morto sì sono morto in questo gioco devo schivare tutto devo schivare la pioggia come si combatte col cannone parole forti eh sì parole forti un uomo davvero strano era molto strano non ricordo dato prima il tuo pugno me l'ha sembrata una palla da baseball io tolgo ci sono le pari da baseball anche poco ma smash invece ma come mi ha preso scusami non lo so non conosco le mosse non chiedere dato contiamo su città aiuto mi ha riflessiato lo schermo mancarai stimo il phantom rage su buccaccio città vaffanculo dado usa i pugni nelle mandrie come on over bravo 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 sicuramente è felice si ma era morto discord no sono uscito io ragazzi ha vinto nuovamente nonostante tutto si basta riprendo con l'unico che sto a usare va vaffanculo andiamo qui luca ragazzi ho perso il pulsore ok eh chi è stato perché sono il 5 perché è riuscito non so come bene riprendiamo luca luca vero però guarda lui che prenderanno sapete che cosa vi dico non cosa pensare sport sono gay ragazzi ma possiamo mettere un po più vite perché qua la quarta partita abbiamo fatto 20 minuti live ma se no dopo dopo vediamo un'altra modalità dai mi sei me ne vado con l'ha preso l'arma luca devi smettere di roberta luca io spero che tua madre quando ti veda pianga la currime di sangue la struata della madonna aia non mi prendi i tasti mi sta rincorrendo il cavolo ma se noi siamo amici ti ricordo ma era questo quella ma se ma è che mi hanno buttato via l'arma no ma se per favore dammi l'arma c'è mi non uso la palla se mi faccio il masso si ma tutti i nomi ragazzi io vi odio come le cose che possono essere odiate no io ho il nome solo sul mio perché sennò non capisco una fava di niente perché non è che leggo i nomi vedo solo che c'è il nome quindi capisco che sono io voglio un'arma scusate vado a cercare un'arma aia la fanbocca aia ma come no aia non a me volevo solo un'arma la palla di luca le palle del pollo dove sono finito è dead no per quanto tanto c'è un matto dietro ciao ciao no apri io luca volevo prendere mi fa mi ricon pesce no che male che cazzo era ma no sono vivo sono vivo dove sono sono qui oddio non c'ho molto caso sto cazzo sto cazzo ho perso la way apons scusate dove sono chi sono usiamo la palla no per favore ho una vita sola non potete farlo avete tutti una vita stai zitto luca io spero che tu muoia stanotte stanotte dai marco dai marco dai non me la devi lasciare la vittoria ne vado al tuo onore di jenny sei zitto mio giovane padovan il mio giovane piadina oh no ho perso la palla marco trova la marco marco da piccolo mi hanno operato il fatto ti metti una biglia d'acciaio per sostituire ai rubati a cosa sto guardando è durata quattro minuti questo ragazzi spero che voi ci stiate capendo qualcosa che vi siete divertendo ma non vuote che cazzo vuoi tu io non mi sto divertendo io piango brawl ball c'è kung fu ma non mi piace facciamo una squadra brawl ball è il brawl ball però siamo 5 come si fa marco farà arbitro aspetta che ci sta alte f4 eh no la maggior parte sono da squadre come fai a fare le squadre sbagliate assolutamente non va bene così più vite su quella normale via ok se no possiamo fare questa modalità qui che praticamente ogni volta che muori cambia il personaggio no ti prego io non so sarei solamente una vai 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 mettiamo 5 vite così su 5 personaggi mettiamo no è parte no è che non mi piace aspettare vai guardate siamo visione stai per dire che erano no stai per dire che erano visione davvero ragazzi guarda di chi mi è capitato ok è a me orion è a me a me e va bene e va bene botbar l'uomo degli orsi cosa? eh botbar è l'uomo degli orsi tutto uomo degli orsi che è chiasuo qui si si ok eh va lasciatemi un'arma per l'amor patrio lasciatemi un'arma con la cappella in mano ma anche avevo saltato pargo 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 non lo so sto dicendo cose molto random domante forse sarà un casino incredibile con i personaggi che cambiano ci sono adesso ahia tu c'è la lucella tra la palla io iiha ho preso l'arma si rocker io vi odio io vi odio io vi odio quelle cose che possono dire odiate chi cazzo sono rayman appunto come funziona rayman c'è i pugni avevo il pugno che ce l'ho ancora rimani solo tu solo non si vedono i due unicazzo che cazzottone che ti è arrivato non lo fare che cazzo ti ho tirato e ce l'ho scritto io il pugno del sacripante la palla mamma mia che brincio va penata in faccia compresi dove sono chi sono quanto vendica un fiorino scusa avevi troppo poca vita la sorella aveva troppo poca vita per questo non è mai nata ragazzi ho perso i pugni scusate un attimo di tempo poter recuperarli aio questo non mi ascolta come parlo non è vero c'era 4 ho capito ma anche iron a4 marco io sono bello vedo te no per favore vai a fare in culo sto per fare una tripla incredibile come funziona ma questo guarda la mia vita non spammare ho due vite non spammare vabbè ora giustarle come cazzo funziona questo ma no era vero che ho preso con la bomba vado a smettere Luca vieni qui mi hai tolto il parco no vabbè non ci credo dai ma c'è tanta la vita come hai fatto a buttarmi fuori che cazzo sono samus che cazzo sono scelchia tutta 0 per molestie più 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 allora da una storia ma come cazzo funziona questa oddio ma c'è il rimpallo il rimpallo il timballo buono non mi avrai perché è doro ma che schifo tra tutti quanti aia che è rayman e vabbè sì vabbè ma che cazzo avete fatto ma datene uno che so usare per l'amor di giovio e pluvio giovio no ancora chi è questo giorno sono io proprio riprendere una cazzo di arma per favore aire aire fai veramente schifo a cali scusami come confuzione la fai passacrando dead dead levati dal cazzo io sono morto papà papà smettilo ragazzi paura paura la strada di qua per favore ragazzi ma se zitto per me sta disegnando sta guardando con ansia la parte se guardano conami guarda che è davvero a cali diventa 80 nebulosa marco che dice le parole con la n bravissimo dato che attacca il nulla marco bella 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 la doppia dove si pazzo io pensavo che luca si sbagliato ragazzi non voglio più giocare con lui per farvi vi muovete a donare quei soldi usi lo facciamo quindi continuiamo con questo si dai che mi vuoi se mi piace non è male non è male un bel bordello ma ritorno se ricco marco donati io le calcio ma io ho primuto ma porca la mignota non ora andato che che ha messo una mappa esce quella sono stato io o no sono drax tanto voglio togli tanto ora muori vabbè una musica prendi il pugno ma se sono il preferito chi sono dove sono ho preso no 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 mi ha interrotto la combo i tipi chi poteva avere attori se non luca ragazzi orio un attore ma e g wanzo ma che si capisce tutti quanti picchiano me però io lo so io lo so io sto agitando il punteruolo c'è in questo mi sento come una ficca una discoteca va bene qualcuno ha fatto una tripla? qualcuno ha fatto una tripla? no no ragazzi sono quella della parte sbagliata ma chi sono una scena centrale e si togliete? no luca io spero che ti venga un cancro al seno stanotte fatta quindi brunanda vai più tu quelli che mi stila stato stretta per cortesia grazie e aspettami dove sono? ragazzi ce la faccio non farlo per se la palla ahio che botta ah ho sbagliato ah come? sono ancora vivo no ragazzi sono un cappellaio ah no sono sono miraggio tantissimo no 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 dammi questo corno dammi questo corno ginga ram io glielo dico dopo non ho capito capite che c'è il negozio di corni negozio di corni il negozio di corni erano cittadino di spade eeeh va bene in Siria nella strato marco da pochino di base usiamo i pugni di Vegas porca non è chi era rayman io sono una troia che eri letteralmente lì non volevo sì sì no ma no 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 non è una critica dico bravo è baffanculo l'ho fatto la stessa cosa a marco prima sì quella per chi augura gli augura del cancro al seno esatto aspetta però qualità così gli auguro dall'altra alla destra come per i baricocelli adorata per la varicella non lo so capire baricocele la palla non capite le battaglie ma ricordate ragazzi avete che non so veramente cosa sto facendo solo che mi rimasso la vita adesso nonostante io ti ammazzo chi sono questo hai mi escono sempre gli stessi e ma perché sono morti ti escono solo quelli che hai dovrebbero uscirmene tantissimo i niccoli cosa sto vedendo cosa è successo guardalo là che mi incul l'ha detto eh che botto che botto quanto mi dà fastidio che applaudiamo piano se campo sono arrivato ultimo comunque eh sei morto senza che non ho ammazzato nessuno perché non capisco nessuno mi sa che è il primo che muore arriva per ultimi teori no ho sbagliato ragazzi tanto mi chiro grazie grazie mi chiro ragazzi sono gli atta man 209 che numero sono in personale io sono Lord Stark che non vanno a sommarsi sul no purtroppo no reyman reyman grande pugli d'oro reyman reyman nuova larra ma marco io non sento niente in serie per favore ai non mi sentire sino anche nel silenzio perché non sceglie pazzo bastardo il pugno oh la bomba il pollo ciao aero dove sono finito io ciao aero adesso ti vengo a prendere a pugni dove sono ma no mi dava male e infatti e ciao aero sono io il reyman nelle parole aero capito altro aero 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 non so che tu sia aero 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 ma ma se immortale comunque dicevi scusa base marco stai zitto no one can stop my charge aero aero nonostante non muore luca devi smettere non muore non lo so dire di qualcuno di importanti tipo che cazzo sono i prof di impianti ahahah muore nemmeno salutiamo ma no salve corcione come va cosa come marco devi usare i sonic name aero corci aero cos'era tutto per nonno era come un mio nonno scusate si era incastrato tutto quanto aiutati aero 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 taglia ma io sto morendo perché sto morendo e vabbè poi che so una staffetta è diventata basta dove sono dov'è luca dov'è luca dov'è luca dove sei vieni esatto bravissimo ma che jj ero io anna ragione vaffanculo jj io non sto colpendo nessuno benvenuto al mio mondo potete uccidere lui ok grazie ma che cosa vuoi davvero avevo tre vite ma se per favore non farlo ciao ma se ma io ti avevo evitato ma se come va come la mettiamo dove sono chi sono ah eccomi dove sono chi sono che anno è chi è che sta scorreggiando chi è che sta scorreggiando eeeh va bene e certo attaccate tutti quanti me no ve la prendete con il più forte insieme no ma che cercello è solo il snow ma se la uso per te dove sono io non è vero se ho sbagliato personaggio lontata da vai a fare in culo mass chi è che sta scorreggiando non lo so chi è che sta scorreggiando la bomba arriva la bomba oieee e sono rimorto perchè cala la mutanda eeeh mi piace questo gioco il cerchio non sono fatto per il tipo che bello sono morto 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 c'è buchi è un problema c'è buchi di sceneggiatura se mi sono abituato a entrarci eeeh va bene marco quando dentro in galleria con la macchina bravissimo vedo dei prendo sempre il mi sbaglio prendo sempre il lato ho cambiato 10 macchine ho detto una macchina nel garage ma non marco quando arriva rifatto dove è il buco dove è la galleria e va addosso al muro esatto marco dei demoni feccati ragazzi mi spiegate a donare cioè voi volete davvero vedere nonostante che continua così no vado vado poi la galleria dice no più a sinistra quello è il mio ginocchio ma la galleria poi fa ma sei entrato ah ragazzi ragazzi facciamo questo bro ball non si può fare eh si può fare con le squadre sbagliate eh sti cazzo sti cazzo dai su basta che il luca sono una squadra a due guarda scusate ma ci chiamo 4v1 qual è il problema mi sta bene sbagliato in quel senso siamo tre rossi e due blu ah beh no mettimi nel blu a me andiamo due dato no facciamolo sempre casuale dato facciamo i culi va bene queste le squadre non so come si cambia fate quattro contro marco e via sono d'accordo si è tanto supportissimo ma non fate casuali ma non penso serva vabbè non giocare a pallone no ma come faccio a cambiare ce l'hai per portirci ma no o no o no come si fa come si cambia il giocatore come si cambia il giocatore come si cambia su alle ah non lo so non lo so non mi piace che sono non fate non voglio come si fa oh 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 c'è il personaggio c'è il personaggio marco ok e va bene scusa come ci troviamo io non ho messi nomi a platino mamma mia non è mio no no ma siamo ottenuti una vita sola quindi sopra ho fatto no non ci devi restare un attimo e sbagliare un'arma ma ma che cosa non non lo sapevo neanche io me la ricordavo no che cosa è successo io ho fatto il gol ma come funziona prendere la palla ma dove la palla scusa c'era io ce l'ho al centro all'inizio marco protegge ci provo grazie è andato non è pagina perchè aspetta guarda ti proteggo meglio vai no l'ho boccato no è vero che di qua non si può eh ce l'ho aiuto eh si aiuta vai a fare un culo ma 3 contro 2 3 contro 2 sbagliato ma io pensavo fossero combattimenti non sta cagata no hai dei pittrappalle eh oddio effettivamente ce n'è una che possiamo fare non mi sono ricordato sì sì no me la ripresa vai da dove non c'è il limite a 4 no dove sono chi sono marco eh no lascia che la prendiamo ma ci senti basta vabbè l'hai lasciata solo saltellare dai non sei capace dai non ci capiscono merda ok ragazzi mi vado a 13 minuti è finita vai da dove prendi la da 13 minuti da partire ah niente vabbè ragazzi non si può fare no dai pisciamola ehm si può uscire tranquillamente sì da dove è uscito quello vedere se potevo terminarla in realtà ma io penso questi combattimenti non un rocket no 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 si chiama bull bull che è più t'aspettato ma che ne so ma non pensavo che sia dovuto ma cazzo ma chi è che sta giocando al posto ah io sto giocando al posto ma io ho uscito no se mi fa scendere oh no vai nel minuto invito io oh ah io riusciti fammi vedere aspetta 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 vai cercello esci ho acquistato tutti l'eroe dal 2003 almeno c'è un po' di eroe per il random vai cercello cala la mutanda dovete rinvitare me eh eh rinvita anche eh mi è sparito eh vabbè posso in realtà unirvi unirvi eh vi definite cazzo come? vi definite no vabbè allora c'era questa qui che si chiamava dodge bomb e senza team? eh senza team si hanno 5 vite di base e senza team? e che tocco a fare? eh bisogna lanciare bisogna lanciare le bombe cioè siamo tipo su delle colonne dobbiamo lanciare le bombe ad essere sinistro ok sperando che qualcuno si vada in teoria si guarda no e non so il fatto che siamo in 5 e ci siano 4 colonne vabbè dai dobbiamo lanciare le bombe no no non c'è la piattaforma fai noi siamo due teste di cazzo ma roba chi è quel po' aia bravissimo marco grazie marco marco e ragazzi ci sono anni di pallaprenata potete anche raccoglierle mentre vi arrivo nel sì eh sì eh sì ma vaffan cazzo dai venite non mi avrete ciao Simo ciao Simo e ti rotto il cazzo e fammi fare flipper eh per divino niente o no mamma mia che bomba cazzo da fare è l'idea Ayrou si ma se ma se mi hai zittito puttarella quelle shut up e va bene Ayrou ma li ho uccisi io? non lo so bil cassi dirà affatto oh ebba troppi torpi salti porca troia e nonno e nonno e nonno nonno ma va tanto c'è il padre ah 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 perchè ridi perchè aaaaa mi sono uccisa quella è di Luca Luca quanta virilità ho preso la bomba divata non l'hanno vista uccidete luca va bene l'avevo lanciato però non è tutti no non ho visto stavano moderati mc 91 è vaffanculo dai però è una vita una vita sono morto perché ho preso una bomba dai ai ruivi di conoscenza di stare molto attento dimmi no vabbè non posso morire così non la voglio rifare non posso essere morto così come un cretino non mi ha fatto il recupero come come smash non fa mai recupero porto di sussato è il numero di sussato manca luca non mi fa mettere pronto mi dice che il gioco è pieno che mi spulla finalmente luca mi ricordo che è nato a sinistra c'è un bel è in vita ma mi ha tolto no è uscito luca ah ho letto tar fake invece di random e quanti gli altamana perché ragazzo alla prossima scegliamolo ciao marco e no va bene bravissimo air e mi ha aiutato un colpo a manco c'è un altro caso marco pensi che faccia caso a qualcuno ma dove sono che sono a sono questo da dobbia salvare kingdrede ho preso una bomba sono morto ne va bene che cazzo è stato quello che ha lanciato la bomba random non ho lanciato l'andero lanciato a massimo la potenza per mandarla in fondo aia questa e va bene nooo sto per dire qualcosa che è proibito eh ragazzi porca ragazzi mi dispiace tantissimo per questa dai sta prendendo da me e che culo luca no air aria di merda stark e va e senti quello adesso è morto l'avete rotto non mi fa il recupero di sua madre fammi il recupero ma come era ma come era ancora qui ha rotto qualcosa e ha cercato il recupero no no marcello bello marcello marcelo marcia 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 che funziona dai facciamolo in ultima serve a tenere la concentrazione bellissima sta modalità ragazzi sceglierti il personaggio per favore non ce lo faccio no ma andiamo al fatto viene vedi che sono oggi cogi cogi mon hashtag marcello ma sempre accanto a quel lecca cappello di luca marcello ma perché la lancia giù e luca cinese va bene vero che viene a picchiarmi e bello che mi serve sulle concentrazione e usa le bombe te mi avete rotto tre quarti di merchia quindi qualcosa come tipo tre millimetri aero ha tutte le vite perché hai preso la barca no ma sto credendo invece di fare il recupero ha preso la bomba ma mi pare che fuori mario la bomba in faccia appena finisce l'invulnerabilità ma vaffanculo tanto che vuole tanto che vuole eh il tadaki mouse come sta? forse aaaaaaah che niente finisce la botte qui non parla nooo nooo tutto ciò mmm no 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 ahhh c'è aria c'ha tre vite porca puttana non mi avete caccato di strisce ragazzi ahhh 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 ragazzi ahhh avevo cinque vite sono morte sono morto colpito da tre bombe e ma se è benvenuto nel mio mondo io sono fatto tre morti una dalla l'altra per chiedere che il suo nome arriva una bomba in faccia che devo fare Marco hai visto delle mie tre vite no? cinque vite sono morto per tre bombe e ma se è uguale eh neanche uguale e le altre vite come le hai fatte ma e quello ti sto dicendo vai dillo ehi recupero ha vinto dato incredibile bellissimo dato è finale ne voglio farne una termina della fine basta vabbè dai è troppo bello giusto perché siete Marco l'acqua guarda quello che sceglie giusto perché se ti dico i nuovi saluti non ti vuoi cercare la live ma poi allora è l'ultimo la stiamo for all'orario no 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 ma basta è possibile che appena a terra ma è una bomba in faccia ma che è ma che è che appunto stuco di appunto su tortelli di che cosa vuoi tu ma dove cazzo non tenere no ma ma che cazzo fa chissà ma che cazzo fa chissà ma che appa gente cazzo un baccazze però quanto è bello capodanno e non mi avrebbe scusate ho lanciato la bomba e non è esplosa scusate ha colpito la marcello bello ho provato a prenderlo posso bisognare per favore è la merda di no solamente me ma sul serio ma andavano a prenderle le bombe ti ha chiesto una bombe parado base a fare solamente le schivate la madre fa le pompe cavalli ma se ma non per lavoro ma prego dunia e adesso quello morto mamma mia manca du 45 ne lanciamo a chi si assai bubo ma la sua piattaforma e va dritto giu l'avete comprimare nella chat mi stiamo sulla piattaforma è deciso giù in linea che cazzo sta succedendo ti è capo da sta bombe mara ragazzi se ne fanno altri rider facciamoli vedere il tele a poco ragazze se ne faccio solamente uno solamente schivando no come prossima sfida paladine ma ma che paladine scudano fermo fermo allora ci proponete giochi che giocate voi ragazzi sono salta di vita ragazzi sono salta di vita carini si vede ne vanno fin ma chi si va macchiato a buscana a buscana e la fisica compri a pocaccia i sordi ma perché vedo basero che si picchiano e la marca che ha preso è un belato un po bemarato giuseppe possiamo giuseppe la marca ma perché non riesco a fare la palomba eh che rimbalzo ha fatto ma siamo seri ma dove cazzo sta la conservazione c'è la conservazione l'energia cinetica eh si cinetico cazze mamma te cinetico ma ho capito ma ho fatto lo stesso rimbalzo che quando è partita ma che è noi stiamo nel far west ma perché ho fatto una poca ma non lo so non lo so ne è la palomba di tua sorella e dove è luca e claudio povera che si chiama rocket league ma sul serio mi vuoi sponere qui caldi anche noi non avevamo mai aperto l'holl in vita nostra prima della sfida ci siamo allenati e abbiamo fatto il cu modesto voglio ma vuoi dire che la cavolito vuoi tanto per un gym non vuoi troppo ma dove sono ma ragazzi mi sento me lo stavo guardando mase eh guarda io come su bello guarda com'è bella mase è morto eh ma no se non è torno no che il suo è torno il cercello torno chi è stato un bel marato ci fatto uno sbaglio ma tutti a uno ragazzi è finito ad una volta ogni tanto non sto morendo con manustru un signore l'hai detto ma no che si è stimato non so ci manchi io ti ho fermato perchè sono in mezzo bella mase dai mase dai mase dai mase dai mase vai airu voglio che finca airu forza da napoli dai famo napoli tiè quanto airu io non riesco a fare la polomba quando faccio la polomba mi fa perpendicolare sulla testa che neanche al polo nord ci fanno un po no no amici amici ne stanno a fare un'altra amici grazie tantissimo per aver partecipato questo delirio io non ho più una gola dopo oggi io non giocherò mai più a brawl alla perchè mi fa schifo come le vergini e ora ringraziamo il full metal per il raidone e a pino per il sub quindi vi ricordiamo che potete eseguirci tranquillamente sui ragazzi mi sono saltati di tassi della tastiera come e anche il anche il anche l'f12 aspettate un attimo lo zico vi ricordate possiamo vedere se può darci su youtubero su è marco che ha detto chi odia le verdi ma ma su instagram e su telegram vi ricordiamo anche che se volete potete conoscere marco ma sull'invio non li legge e poi ricordo che la nave è finita quindi ci vediamo domani